Buongiorno ragazzi, benvenuti, un bacione grande a tutti. Allora, il mio sogno si è realizzato, dopo tanto tempo ho trovato lo spazio perfetto, come lo desideravo, bellissimo, una stanza bellissima in un'accademia olistica meravigliosa a Prato, a Via Roma. È una stanza bella di legno, è nuova, riscaldamento, aria condizionata, tutto quello che si può desiderare. Lo specchio grande per fare lezioni è veramente uno spazio meraviglioso, massimo 15 persone, per questo per me è perfetta. Partirò il primo settembre, viene di giovedì 2022, partirò con le mie lezioni. Lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 10.30. Lunedì e mercoledì farò Harmony Stretch, stretching anche posturale, unirò tutte le cose insieme, lunedì e venerdì. Invece mercoledì alle 10.30 farò il Pilates, che è una cosa che ho creato io, dove unisco lo yoga, lo stretching e Pilates insieme. Tutti gli esercizi, tutte le sequenze, tutte le cose che ho imparato in questi più di 30 anni di esperienze unite insieme. Martedì e giovedì alle ore 19.00, martedì farò sempre Pilates e invece giovedì farò sempre Harmony Stretch e stretching. Tutte le cose, diciamo, quelle che so insegnare da più di 30 anni. Allora, abbonamenti sono solo mensili, potete venire una volta alla settimana, potete venire due volte alla settimana, potete venire tre volte alla settimana. Avete possibilità di scegliere tra queste cinque lezioni, potete decidere quale giorno venire e quale orario venire. Io già uso questo sistema da più di un anno su Zoom, per questo continuo, perché funziona molto bene. Abbonamenti mensili, tranquillamente decideremo quando partite, quando finiscono. Ci penso tutto io, avete le vostre schede, dovete solo venire, pensare a voi stessi, staccare, rigenerare, ringiovanire, vivere senza dolori. Useremo molto le respirazioni, faremo proprio lezioni anche con le respirazioni, insieme con i movimenti e farò anche delle meditazioni, deciderò io. Di sicuro sono quasi sempre venerdì, per questo dipende come vi troverò in classe, se proprio avete necessità faremo anche altri percorsi. Finalmente è una cosa solo mia, non appartengo a nessuno, vado per la mia strada, vado con i miei metodi, con le mie lezioni, i miei esercizi, le mie sequenze. Tutto tutto il mio, finalmente dopo più di 30 anni di esperienza. Ovviamente tutte le lezioni, chi mi conosce lo sa, che sono basate sul mio corpo, su 70% di invalidità. Per questo chiunque ha dei problemi, necessità, sta male, vabbè, troverà una insegnante che tra virgolette sta peggio di tutti gli altri. Niente ragazzi, io vi aspetto, comunque troverete pubblicità ovunque, su tutti i miei social, su Instagram, troverete sul Facebook, su YouTube, sulla pagina, sul gruppo. Per questo troverete, troverete anche in questa Accademia Eteria a Prato, a Via Roma. Sul sito troverete anche la pubblicità, tutte le spiegazioni. Contattatemi, se avete bisogno di altre informazioni, io sono disponibile. Primo settembre, giovedì, alle ore 19, partiamo, 2022, e io vi aspetto. Un bacione grande.